A preso il via dal parco delle cascine di Firenze, uno degli storici polmoni verdi della città toscana, arcobaleno d'estate, il calendario di iniziative promosse da Regione Toscana è nato da un'idea del quotidiano La Nazione 4 anni fa. Oltre 260 eventi dal mare alla campagna, passando per piccole frazioni, borghi e città. La festa più colorata dell'anno, che si protrerà fino al prossimo 21 giugno, da idealmente il via alla stagione estiva, che si stima a livello turistico possa dare soddisfazione importante agli operatori della Regione. È un'azione efficace, le nostre agenzie sono sul campo insieme alla Nazione che sostiene questa iniziativa e credo che siano stati efficacemente autori insieme agli enti locali, alle associazioni di categoria, di tanti episodi e daranno pienezza alle serate di questa estate prossima e che ormai sta premiando il nostro sistema di accoglienza e ricettività turistica. I dati che abbiamo nel primo semestre sono molto positivi, attendiamo una conferma dal nocciolo principale della stagione estiva che è ormai alle porte, ma se questo è il trend credo che potremmo aggiungere anche nel 2016 un dato più che soddisfacente dell'evoluzione di questo settore. La Toscana è una regione plurale, non c'è solo Firenze, Siena, Pizzi, sono tanti piccoli capitali perché sono tanti piccoli gioielli, le nostre città d'arte, i paesi d'arte, le città della riviera e ognuno ha qualcosa da dire e proprio questo mi sembra che sia l'evento vincente di questa iniziativa, non è solo una terra di campanili in negativo ma anche proprio di tante risorse piccole, diverse che però una volta tanto si ritrovano tutte insieme. Tanti gli eventi in programma in tutta la Toscana, dalle manifestazioni enogastronomiche fino a parti, spettacoli musicali, DJ set, fuochi d'artificio e teatro. Tanti anche i VIP che hanno aderito all'iniziativa a partire dalla presenza di Paolo Ruffini e Serena Autieri a Firenze questa sera. Quest'anno abbiamo due eventi principali perché così aggregano persone importanti, artisti importanti a Firenze e a Viareggio. Abbiamo scelto di iniziare a Firenze in Piazza del Carmene con uno spettacolo, con Cristiano Militello, la presenza di Paolo Ruffini e la conduzione di Serena Autieri. Poi ci spostiamo sabato a Viareggio, quindi al mare, l'inaugurazione della stagione estiva sulla costa, anche qui un concerto con i Gatti Mezzi, Enrico Ruggeri e la conduzione e anche lo spettacolo musicale di Claudia Gerini. Una bella occasione per far vedere una Toscana vivace, ricca di iniziative, tanta voglia di organizzare e anche, possiamo dire, invece che la culla del rinascimento, possiamo dire una culla del buon vivere. Intanto al Parco delle Cascine non è mancata la presenza di una delle stelle toscane dell'enogastronomia, lo chef Marco Stabile che ha proposto uno speciale menù per il cocktail party inaugurale. E i sapori saranno protagonisti questa sera anche a It Prato, a partire dal tardo pomeriggio, così come domenica in sette cantine della Val d'Orcia, che organizzeranno degustazioni in tema arcobaleno. E poi i concerti, la serata finale in programma a Siena, con la maratona di musica non stop curata dall'Istituto Rinaldo Franci e Siena Jazz. Occasioni per rilanciare la bellezza, stimolare turismi anche diversi, ma soprattutto mettere al centro l'amore, i sogni, creando condizioni nuove. Quindi la Toscana è meravigliosa, ha il suo paesaggio, ha il suo modo ormai ben conosciuto. L'occasione di Toscana Arcobaleno è un'occasione per osare, per fare cose nuove, diverse, per ristimolare un po' tutti a riscoprire in un modo nuovo e diverso le nostre meraviglie.